Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel vostro JustEnergy, siamo qui per lo shop di giornaliero del 22 ottobre E manca soltanto un secondo, vediamo cosa esce Oh! Il Black Adam è rimasto, ok, qua sono rimasti Ladrone è uscito Morignolo Smedz Ok, tempo di mimi Applauso lento Uh, tornato il bando sul te del sole Carlino Che ragazzi, Valkyria Skin di stagione 5 Vabbè, poi c'è la piccola ragazzi Meglio non dire niente Carlino, 1.5 Uh, è tornata Aura Skin da 800 V-Buck Suo piccone, suo backpack Backpack di gialda e gialda Allora, ragazzi Skin da 1.200 V-Buck E il suo piccone Vediamo un po' sotto Ragazzi, allora poi vabbè Intuoso di settore è rimasto Ladrona L'abbiamo già vista Sono rimasti il bundle dell'NBA E niente ragazzi Qui si finisce lo shop di oggi ragazzi Che dire, spero che questo video Mi sia piaciuto Se fosse così mi raccomando Pulcci in su Commentate Se non siete iscritti Iscrivetevi Noi Ci vediamo ad un prossimo video E ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti